Operazione Raptum da parte dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Alle prime ore del mattino i militari della compagnia Napoli-Vomero hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di 13 persone gravemente indiziati di sequestro di persone a scopo di estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. La vicenda si è consumata nel febbraio 2020 nei territori di Marianella, Chiaiano, Scampia in danno di un trentenne, operaio lontano dagli ambienti criminali. La vittima, presa di mira probabilmente per la disponibilità di denaro della famiglia nel rincasare in auto, è stato dapprima cerchiato da circa 10 soggetti a bordo di motocicli, successivamente prelevato con la forza sotto la minaccia di armi e infine legata e segregata per numerose ore in un garage di Scampia, fino al pagamento del riscatto per un importo di 40.000 euro a fronte dei 50.000 richiesti. I soggetti, attinti dall'ordinanza di custodia cautelare, sono gravemente iniziati di appartenere ai diversi clan operanti nelle zone di Scampia, Miano, Piscinola, Rione Sangaitano, Marianella e Chiaiano. Di qui l'ipotesi di una condivisione del progetto criminoso da parte degli esponenti delle compagini del Lorusso, degli Amato Pagano e del clan Vinella Grassi, con la finalità di autofinanziamento.